2023 d'incanto! Dovete avere tutto quello che volete dai vostri figli, ma lasciate stare le nuore! Ma, qua dove stiamo? Siamo a 20-22 secondi, 20 secondi. E cominciamo, dai, facciamo il candalo. Addirittura! Sì! Vediamo se siete capati. No, da 13 non volevo. No, dai, dai, dai. Vai, vai! Nove, otto, sete, sei, cinque, quattro, tre, due, uno! No, dai, 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 dai! Allora, la nostra è un grande siti reale e un abbraccio, auguri per un migliorino 23 fantastico per parte nostra. Auguri a tutti! Buon anno! Salute! 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 Buon anno! Grazie a tutti! Fate un abbraccio anche dietro le quinte! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.